Ciao a tutti ragazzi e ben tornati nella 1,2,1,5 FAMILY! Noi continuiamo con la nostra passione per i Me Contro Te, infatti se vi ricordate del video dei 10 anni insieme, cioè di questo album qua, se vi ricordate qualche settimana fa Anais e Lorenzo vi hanno presentato questo album nuovo dei Me Contro Te, 10 anni insieme infatti mamma ora ci ha comprato anche altre figurine che dopo attaccherete tu e tuo fratello e poi l'ho fatto solo Anais ah solo Anais aveva fatto il video, ok e poi mamma sbriciando in edicola ha trovato anche questo qui esattamente, sono andata a farmi un giretto in edicola dove ho comprato anche le color bombs di Ninna e Matti andate a cercarvi il video, bellissimo e in edicola ho visto in un angolino questa scatolina neanche l'edicolante sapeva di averla ancora solo che cosa mi ha colpito di questa scatolina adesso l'ho staccato ma c'era un'etichetta con scritto 3 euro e mi sono detta una scatola dei Me Contro Te a 3 euro me la devo subito portare a casa perché le cose dei Me Contro Te sono belle ma si sa costano tanti soldini a pensare che un pacchettino di figurine così costa un euro e quindi ho trovato questa scatola e ho detto comunque sia è una bella scatola quindi qualsiasi cosa contenga poi può essere una scatola per esempio per mettere tutti i doppioni delle figurine adesso noi facciamo un po' di ordine sul tavolo e poi scopriamo che cosa c'è dentro questa scatola però diciamo una cosa agli amici ci siamo accorti controllando su YouTube che tantissimi di voi guardano guardano i nostri video ma non sono iscritti quindi cosa devono fare tutti i bimbi tutte le mamme, tutti i papà iscriversi e anche spazzare iscrivetevi al canale lasciate sempre un pollicione se volete un commento perché stiamo per arrivare a 10.000 iscritti e quando saremo a 10.000 iscritti ci saranno ancora più sorprese per voi quindi adesso facciamo un po' di ordine sul tavolo e poi apriamo questa scatola me contro te art and craft color allora ecco qui come si presenta la scatola sì la scatola è proprio bellissima c'è tutto il pibu è tutto decorato tutto decorato con anche la loro scritta e qui c'è scritto gioca a ritaglia e crea art and craft color c'è il simbolino delle forbici e c'è un più 3 quindi dai 3 anni in su quindi perfetto per voi due la apriamo? facciamo vedere cosa c'è dentro? aprite! perché io ho 6 anni e lei no esatto aprite vediamo che cosa c'è dentro questa scatola infatti ci sono delle forbici con la punta arrotondata poi pastelli una scatola di pastelli e colla e tanti cartoncini e tanti cartoncini belli spessi quindi non... guardate che belli e quindi è una scatoletta per fare i lavoretti quindi diciamo non è niente di eccezionale non ci sono i loghi dei me ah sono dublo e fasi i cartoncini quindi si possono usare su entrambi i lati un lato è lucido e un lato è opaco conta quanti cartoncini ci sono così diciamo ai nostri amici dieci cartoncini una colla un paio di forbici a punta arrotondata e dodici pastelli per 3 euro direi che abbiamo fatto un buon affare anche perché io di solito questi pastelli ve li compro proprio in quella edicola cartolleria e mi sembra che il pacco da dodici costi 7-8 euro quindi abbiamo fatto un ottimo affare e con questa scatola potrete fare tantissimi lavoretti quindi io non lo so se avrete la fortuna di trovare ancora questa scatola in edicola noi abbiamo avuto la fortuna l'edicolante poi mi ha detto si è nuova però a me sembrava un po' messa lì e dimenticata da tempo però effettivamente sembra nuova non ha segni di no non sono segni vediamo se c'è la data poi dietro ci sono anche fatti vedere le cose però se non volete svelarvi cosa c'erate se non volete spoilerarvi non guardate però penso che siano tutte uguali sai quindi noi adesso faremo qualche lavoretto cercheremo altre cose in edicola di tutti i nostri youtuber preferiti e non solo ripetiamo agli amici cosa devono fare iscriversi al canale e spolliciare e se volete abbiamo una playlist con tutti i video dei me contro te io adesso vi lascio giocare e attaccare anche le figurine lasciamo qualche immagine dell'album ci vediamo tra poco con i saluti finali salutateli amici a casa io vi lascio lavorare ciao 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 Ciao!